Ciao a tutti ragazzi sui Logitech e bentornati nel mio canale, siamo qui di nuovo con Rome 2 Total War avevamo lasciato che praticamente mi avevano attaccato questi bastardi e stiamo rischiando lo sterminio della legione sesta fulminata vediamo se ora riusciremo a limitare le perdite, non lo so, purtroppo mi hanno proprio fottuto di brutto spero di riuscire a fare video belli però che non mi pesino troppi gigabyte perché l'ultimo che ho caricato mi ci ha messo oltre 15 ore e sinceramente è abbastanza pallosa sta cosa quindi sto vedendo se fare video magari di 20 minuti invece che mezz'ora, 40 minuti quello che è oppure se magari tenerli comunque più lunghi però a diminuire la qualità audio e video, non lo so adesso vediamo questo, cercherò di farlo sui 20 minuti, proverò a caricarlo e vediamo quanto ci mette spero che ci mette ancora troppo, proverò a farne un altro magari a 720p invece che a 1080p e vediamo come è meglio da trovare un compromesso perché mi dispiace però non è che posso stare qua 20 ore con computer che carica quindi cerchiamo di giocare velocemente, bene, allora non perdiamoci incazzate, sono loro che attaccano me terreno pianeggiante, non ho nessuna difesa, nessun cazzo di niente allora facciamo una cosa del genere ok, io voglio belli larghi poi, 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 abbiamo, abbiamo questi vorrei provare a fare una cosa fine, vediamo se riesco posso anche fare così ok, è tipo una formazione a scacchiera vai allora, questi non servono neanche a un problema per exterminarli è che sono tanti facciano i rinforzi sono questi che mi fregano sono furbi perché aspettano anche i compagni questi vabbè velociziamo un po', dai io di sicuro non mi avvicino non faccio stancare le mie truppe ragazzi sarà dura, durissima forse moriremo ma cerchiamo di portarci nel più possibile con noi, va bene? allora, andiamo un po' ma quanti framerates sto registrando? 25? sì perfetto grafica a livelli alti solo l'unico problema è che mi scalda tanto il portatile ma comunque ho le ventoline anche sotto ecco chi si avvicinano attenzione, fra poco metterò il game normale velocità normale ancora non sono in range di tiro ok, facciamo così allora, iniziamo subito col muovere questi veloci, veloci, veloci mettetevi in posizione aspettate prima a ritirarvi voglio che lanciate il più possibile le frecce ok, magari voi sì via 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 scappa, 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 scappa cazzo non importa allora dai, facciamo avanzare i miei vigiles ora c'è la ritirata, 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 ritirata mettetevi qua dietro ce la fate veloci, veloci, veloci allora, la formazione è quadrato difesa, corpo a corpo non può muoversi ok, attiviamo questa tattica mi ha accomodate, purtroppo non ho non cazzo lo lascio qui, allora avanza con questi facciamo una cosa di bene ok, ora possiamo muovere questi dai, muovili, muovili, muovili no, no, non c'è anche se, anche se anche se non serve a niente ok, io voglio non comandare assolutamente cavalleria contro tutta l'unità di lanceri di merda che fa il gioco? dai cazzo ok, qui stiamo mandando in rotta un'unità qua dobbiamo spingere il più possibile cazzo, legionari ci hanno ok, allora questi li facciamo sparire dalla faccia della terra ok, allora voglio portarli dietro qua spingere spingere ah, via qua sono arrivati soli sono arrivati soli eh, sta già andando male molto molto male circondati qui stanno andando in rotta ok pronti a dar supporto malforte qua dai comandante attacca tutti gli arcieri possibili qua sarà un massacro però resistono bene resistono bene a me dai ammazzali ammazzali non abbiate timore c'è quanta nuove oh ma basta con questi gli archi quanti cazzo li hanno? facciamo una cosa esene, va stanno a rubire venuto il cazzo andiamo a fare paura ok veloce veloce questi dai stanno andando in rotta qua continuiamo a colpire il comandante ma non gli faccio un cubo non gli faccio un cubo non gli faccio un cubo facciamo anche così ve lo lascio lo sappiamo questi ah è il loro comandante no cazzo marco lepido legato yes ok il mio generale è stato massacrato bene mi sta andando male mi sta andando male mi sta andando male e ora riesco a fare un attacco sorpresa non mi ha l'attacco non mi ha l'attacco tutti i controllo comandante tutti pubblico pubblico buco guarda però questi Vigili Scream non stanno resistendo bene va bene c'è una legione ma non stiamo metti il caso riesco a uscire il loro comandante ma è ormai andata vabbè dai peccato velocizziamo perchè non c'è niente da vedere era impossibile impossibile farcela praticamente loro hanno un'unità più potente argento argento due nastrini di bronzo mi dispiace aver perso il comandante ma quinto basilo purtroppo è andata così dai abbiamo perso la nostra legione e qui le cose si mettono male 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 nella pericolo iberica non ci voleva non ci voleva aspetta non l'ho perso ancora e vabbè ho resistito il primo attacco ma il secondo adesso mi mi vogliono massacrare le blocchie insomma vabbè ritiriamoci uh forse riescono a scappare però mi è morto il comandante cazzo siamo riusciti a salvare la legione? incredibile pensavo che fosse nata perduta posso assolutamente anzi devo assolutamente tornare nella tolosa no che cazzo c'è qua? ma dai ribelli di merda mi trovo a combattere per forza se voglio avere delle chance di vittoria che due coglioni cosa sta succedendo? ok le minuità sono tutte martoriate le sue in parte qui me la posso giocare bene se riesco a difendere come ho fatto nell'episodio precedente ho fatto una bella resistenza sulle mura cittadine non sono riusciti a sfondare ci mancano questi come fanno i ribelli avere tutte le streline d'argento e una roba così ma dai cazzo è allora comandante qua 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 perchè non so da dove attaccheranno esattamente quindi prendiamo due parti qua e una qua prendiamo e questi li mandiamo a morire e questi li mandiamo a morire ah figo ho dimenticato questi ma f*** tremate tremate vabbè qua sono tre cani però ok si stanno avvicinando f*** 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 si attaccano con quello lì perchè non si muovono ecco vai 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 fermiamoli ok devo dover spostare questi tipo qua facciamo una cosa del genere veloci 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 se la fate? si perfetto bravissimi e voi vi sposto qua dobbiamo cercare di fuocare questo se riusciamo di fuocare e incendiare se prende fuoco vediamo giù ci siamo messi 9 video qua le barchette ci vuole ancora un pochino i plebei guardali il coraggio ha fatto ha fatto uomo ok stanno per essere massacrati sterminati non importa non importa no ecco lì sparì nella pagina 3 vai cazzo incendiamo quella merda si sono si sono incantati bene bene intanto mi facciamo un po' fuori legionario oh non hanno perso uno vediamo non ha perso uno cazzo stanno sei un giro giro tondo vabbè si è bugato quindi buon per me adesso porto anche questi qui guarda la epico non ne muore nessuno non ne muore nessuno adesso però glielo ha incendiato guarda fra poco lo molleranno perchè niente è inutilizzato ok stiamo finendo le freccette e adesso le abbiamo finite merda questi due non ce li hanno infuocati no non cazzo e comunque si è buggato bello io faccio scorrere il tempo ma mi vinco la partita così non sarà divertente però fottese insomma io di sicuro non mi muovo dalle mura certo che però mi fa perdere almeno 3-4 minuti di video per niente oh ragazzi non attaccate questi cioè questi qua è mezz'ora che gironzolo non è morto neanche uno di loro penso il megabuggone intitolerò questo video il megabug cioè guarda che roba fermi se questa torre era in piedi potevo continuare a colpirli tac 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 e vabbè e vabbè ragazzi vediamo un po' come il paesaggio vi sono privati in un attacco allora abbiamo qui il porticciolo con una gru per caricare scaricare abbiamo qui un piccolo incendio qualcuno ha lasciato il gas acceso e ha esplosato la casa dopo aver acceso la luce qui abbiamo dei granai dei magazzini vedete una questa è una casetta di un patrizio vediamo poi qui vediamo qui altre casette un agglomerato probabilmente questo potrebbe essere una piccola caserma qui abbiamo delle case belle e popolari una palazzina una specie di chiesetta qui abbiamo il campo di allenamento dei nostri uomini dei nostri militari il campo di Marte chiamato anche così con le stalle tata poi abbiamo qui abbiamo un mercato ecco abbiamo un mercante un mercante qua abbiamo un piccolo non lo so un albero di olive ecco un grande olivo quindi dove facciamo quel frantoio facciamo l'olio d'oliva abbiamo anche un piccolo campetto in cui abbiamo lattuga insalata cosa c'è ancora? patate no patate no provengono dall'america insomma quel cazzo che l'è qui abbiamo casucce casucce e qui abbiamo il nostro teatro dove la nostra gente va a divertirsi ascoltare le opere drammatiche epiche guardate che bello il pavimento bellissimo c'è una buona acustica qui e niente qua c'è stato un qualche crollo terremoto la sabbia il pontile qui abbiamo la peschieria fiorellini 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 cazzo bello pensavo su un scivolo una tenda per prendere il sole per proteggere il sole qua abbiamo le belle spiagge il mare guarda qua fra fra due mille anni ci saranno gli ombrelloni ci saranno gli hotel qua guarda facciamo immagino un bell'hotel qui piscine cazze cazzo 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 è stata è stata bene però c'è un po' di varietà in questo gioco anche se anche se ci hanno messo il tetto all'interno che taglia le porte eh va bene ti facciamo finta che sia una roba antica guardate è stata sepolta uff finita la partita vai termina vittoria epica ha perso 19 uomini e tutti i contadini quindi moriremo di fame perchè nessuno potrà più lavorare alla terra cazzo siamo già 20 minuti quelli di video dai adesso riesco a fare altre 2-3 cosuce comunque l'importante era mantenere la città non perdere la regione e l'obiettivo direi che è stato compiuto eccellentemente grazie a un bug in guerra va bene qualsiasi cosa no ho perso neanche un uomo ecco fuori dei coglioni attaccate il saguntum vediamo come ve le ho cavate va bene allora abbiamo perso un nostro generale è quello della regione sesta fulminata chi possiamo ruolare? allora sicuramente cavalleria allora questo è altre gentes altre gentes altre gentes ok sono tutti delle altre gentes gravitas autorità corruzione trasformazione oh mio dio questa è una bestia però statista la voglio lasciare no mi serve un guerriero un condottiero perchè se mi muore lo stagista che è un buon uovo rischia di perdere subito allora proviamo a fare un massacro vediamo che ce la fa questa volta nemico ferito buono dove creiamo le nostre truppette qui ok non posso ritirarmi sti figli di una mignota possiamo costruire però un castro guarda abbiamo tagliato come fanno a tagliare maledizione non posso passare da nessuna parte guarda guarda niente mi hanno proprio inculato la sangue nell'angolino però posso ruolare mercenari e sia cosa abbiamo? beh cavalleria assolutamente scusami mercenari sparacini merci ora mi riempio la assuma provate ad attaccarmi adesso dai dai provate potrei attaccarli io ci penso ci penso ma a fine turno e dopo ci becchiamo nel prossimo video dunque qui ho un bel po' di territori però 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 c'è il problema no vabbè non c'è problema perchè non ho nessuna affazione il porcento di attaccarmi qui sono alleati quindi qua due legioni ce le ho minchia sta sono tosti questi proviamo a fare una piccina incendio brava tu sabotaggio vabbè non posso farlo non ho soldi non c'è un cazzo aspetta io ho sabotato dei compagni no ma no sono nemici questi ehm ok qua lasciamo tutto come torniamo giù torniamo giù allora abbiamo qua che non posso farvi niente perchè non ho soldi e quindi facciamolo così perfetto allora poi scendiamo qua in nord africa che avevo fatto un po' di cosucce qua cosa c'è ah sto portando unità perfetto sbarcale così da tenere sotto controllo la felicità della gente con questi posso avanzare ma non posso ancora conquistare questi chi sono? ah attenzione no no voglio conquistare io questi ragazzi eh ce la faccio? sono miei sono miei ehm mantieni blocco questa città la voglio conquistare io e anche questa qui voglio tutta questa costa del nord africa la voglio sotto il mio controllo poi qui mi ricongiungerò con la Roma di Mercantonio possiamo creare due impelli l'impero d'oriente e l'occidente ehm questi non mi caso hanno problemi questi sono miei amici ormai ok abbiamo la tecnologia vediamo un po' che poi dai poi finisco però qua tre le ho fatte tre le ho fatte tre le ho fatte ora stiamo continuando a ricercare qui adesso questo mi da ricchezza agricoltura costruzione edificio mi da canali e silos di grano non male mentre questi più 10% alla cultura ricchezza meno 20 meno 10 più 3 pressione più 2 ok facciamo questo che al momento mi sembra molto utile ho bisogno di sicurezza politica economica e direi che possiamo concludere qui questo video purtroppo non ho fatto molto ma per colpa di quel bug di prima allora facciamo una rapida visione di insieme cosa ci aspetterà nel prossimo video allora cercherò di sabotare ogni volta un po' intanto queste due città nemiche qui manteniamo questi non devo fare altro qui qui abbiamo questa unità che decideremo se utilizzarla per mandare a fare in culo ste merda qua che hanno usato attaccarmi e quasi sconfiggermi così così puoi avere via libera per araciglio ma mentre qui voglio voglio eliminare questi livelli qui perché hanno rotto il cazzo potrebbero attaccare Tarraco quindi è probabile che con questa unità li attaccherò devo stare attento anche a questi che li attacchino la città quindi è un bel casino qua sono un bel un po' incasinato mentre Nord Africa siamo messi molto bene questi sono qui a presidiare questo è nostro nessuno ci attaccherà non abbiamo nemici in zona no ci stiamo avvicinando a Leptis Magna anzi è sotto assedio nostro praticamente ne avvicino con questo lo conquisteremo poi scenderemo qui a Macomades e niente dai sistemeremo un po' di economia costruiremo qualcosa ho bisogno ho un fruttuto bisogno di soldi tanti tanti soldi quindi con questo con questo è tutto ci becchiamo nel prossimo capitolo di Rogue 2 Total War se vi è piaciuto fatemelo sapere e alla prossima ciao a tutti dal vostro il logitech